Qui dentro vediamo e ricordiamo tutte le volte come è fatta un'impresa. Leonardo per noi era una grande impresa, un grande pensatore, un grande visionario, un grande stratega, ma portava con sé un sacco di filiere, perché tutti i manoscritti si trasformavano in pezzi di opere, che allora erano strumenti, oggi sono opere, fatte da artigiani. Ecco, non ce lo dimentichiamo questa fase, è una fase importantissima, che oggi sono sempre titoli di artigiani che continuano a elaborare grandissimi manufatti nostri. Quindi, in sintesi, vediamo anche come le filiere lavoravano con Leonardo e generavano valore. Ecco, non siamo diversi oggi, però dobbiamo ricordarci, non ce lo dimentichiamo sempre. Mi auguro che questo serva da stimolo.